buonasera amiche buonasera a tutti vi faccio vedere oggi sono abbastanza bene ho fatto come vedete i funghi pleutus e fritti dorati li ho passati la farina nel uovo nel panno ingrattato e poi l'ho fritti eccoli qua poi nel pomeriggio ho fatto questa crostata di ricotta e croce di cioccolata e poi vi metterò in descrizione l'ingrediente tutto il procedimento io faccio tutto a occhio e non ci sono negli grammi gli ingredienti volevo farvi vedere questo che ho fatto poco fa ecco qua ciao amiche ciao ciao buona serata e buona cena no Grazie. 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 Grazie.